Tirala da tre, sai che cosa c'è? Difendi, passa e tira come big concetti e metri La Redel, con l'euforico presidente di Bernardo che fumava nervosamente nel turno infettimanale vince la sua prima partita in trasferta della storia nei campionati nazionali, chiaramente vincendo il derby di Rosarno una partita molto difficile e con tantissime sfaccettature La chiave è da guardare sicuramente nelle statistiche mancate nel netcasting scritte a mano dal buon Max Casile Una quarantina di rimbalzi tra attacco e difesa della Redel un Rosarno troppo troppo scarico che ha deciso di giocare e di difendere solamente al quarto periodo in poi Insomma, tanti sviluppi di missioni di coach Gualtieri e dichiarazioni del presidente Mimmo Rizzo di qualche istante fa le leggerete chiaramente sabato mattina su Reggio Canestro Insomma, la squadra andrà avanti con coach Ciccio Barilla confermata la piena fiducia verso tutti i giocatori da lunedì si guarda al mercato verso una nuova guida tecnica Mimmo Rizzo è convinto che tutti i giocatori giochino hanno giocato e giocheranno per la maglia del basket Rosarno quello è l'unico obiettivo purtroppo stima anche nei confronti del coach amicizia indissolubile tra il presidente Rizzo e Ciccio Gualtieri purtroppo più di una cosa è girata non per il verso giusto Allora, da dove cominciamo? Partiamo dalla Redel e dalla sua vittoria in trasferta devo fare i complimenti in primis al coach Checco D'Arrico perché con gli elementi a disposizione che si contavano veramente sulle dita di una mano causa ennesimo problema fisico per un soldatesca che anche nella settimana precedente era entrato in campo con una sola gamba dimostrando di poter giocare anche da zoppo sta ottenendo il massimo da tutti i suoi giocatori e in particolar modo nell'ultima giornata oltre al solito continuo Vladimir Asakov direi menzione particolare per due giocatori uno è Domenico De Marco che ha preso una decina di rimbalzi che per un playmaker sono veramente tanti e l'altro è un Matteo Grande che finalmente ha fatto vedere quello di cui è capace cioè 31 punti e questo lo sapevamo già bisognava vedere come arrivavano questi punti in quale contesto, se nel primo quarto, nel secondo fino ad essere andata così cioè grandi partenze e poi nel finale un po' di timidezza possiamo chiamarla così in questa partita ha fatto canestro sempre, canestri decisivi 31 punti direi che è stato veramente fondamentale per la vittoria ed come dicevi giustamente tu prima vittoria esterna della storia della giovane Redder dall'altro lato veniamo al Rosarno direi che a mio avviso ho seguito quest'anno come sempre ma quest'anno in particolar modo il basket Rosarno e sono convinto che era fisiologico il cambio tecnico alla guida perché sin dall'inizio il Rosarno non sembrava quello che tutti noi conosciamo cioè grintoso ma soprattutto dal punto di vista tecnico si era un po' snaturato il gioco del Rosarno come hai detto tu il presidente Rizzo in risposta alle dichiarazioni di dimissioni del coach Gualtieri ha tenuto a precisare la piena fiducia anche nel gruppo di giocatori io mi sento di accodarmi a queste considerazioni del presidente Rizzo in quanto il nucleo storico del Rosarno è sempre quello Brucalossi, Capitan Iaria, Rizieri e Crucitti che sono e non dimentichiamoci anche Ennio Lopresti cinque persone che giocano ormai lì da più di 4-5 stagioni e quindi sono rosarnesi in tutto e per tutto da questo punto di vista diciamo hanno una passione per la squadra ormai è la loro seconda casa anche lì si respira nell'ambiente sempre un rapporto abbastanza familiare tra i giocatori e la dirigenza e anche il paese quindi direi che le motivazioni del periodo poco fortunato non possono essere che tecniche magari cambiare impostazione di gioco a una squadra che ha sempre giocato in una determinata maniera ha portato qualche difficoltà c'è stato l'inserimento di Turi Alfonso che è un giocatore straordinario per la categoria un pivot però di peso e quindi ha fisiologicamente un po' rallentato i ritmi della squadra forse non si è riusciti a far combinare i due tipi di gioco il gioco che si faceva in precedenza con quello su cui la precedente gestione tecnica fino a qualche ora fa tentava di trasmettere ai giocatori quindi credo si tratti solamente di una qualche difficoltà tecnica e non problemi extra cestistici diciamo così sul fronte invece delle altre squadre di Calabria tornerà in campo la Planet nel prossimo weekend e invece Ecoservice Audax taglia consensualmente si può dire una pedina un lungo Marco Sabarese giocatore arrivato dall'amatore Messina parametro costato tantissimo i 4.000 euro ormai canonici e dunque l'Audax riparte praticamente senza un lungo di ruolo anche se aspetta il rientro dalla squalifica che scaderà proprio in questi giorni del buon Livio Nocera insomma coach Dari comincia a mettere le prime basi per questa nuova squadra sì l'Audax perde un centro importante ma punterà un modo di giocare secondo me completamente diverso ossia tanta corsa l'unico lungo insieme a Nino Barreca sarà Daniele Cerami che lungo non è però il nuovo coach punterà molto sulla velocità ha già dato spazio a Brienz e Iero i due giovani arrivati in doppio tesseramento quindi si sta tentando di puntare al vivaio come l'Audax ha sempre fatto del resto Costantino Sergi Canale sono tutti giocatori che sono parametrati Audax e quindi stanno permettendo alla formazione del presidente Nuccio Vita di non pagare i parametri ma di avere una risposta dal campo molto positiva fino a questo momento ricordiamoci otto punti in classifica ritorno al successo nel turno infrasettimanale con tanto orgoglio la nuova Jolly che batte lo scontro diretto contro i giovani del Ragusa successo molto importante anche perché il nuovo acquisto Angelino sta dimostrando che è stato sicuramente un buon ingaggio dico bene sì sì anche nell'ultima partita contro il Trapani partita che non ha avuto storia Angelino era andato ben oltre la doppia cifra dall'altro lato sta salendo in cattere anche Pasquale Tramontana e due punti fondamentali in quel di Ragusa in uno scontro tra giovani nel quale hanno avuto la meglio i giovani reggini dopodiché C regionale in questo caso il turno infrasettimanale non c'è stato si tornerà in campo nel prossimo weekend sabato e domenica e le inseguitrici dell'imbattuta e fortissima gestistica gioiese della quale abbiamo già parlato iniziano a fare i conti con gli scontri diretti sabato partitissima Villa San Giovanni contro Junior Basket Lido insomma chi vince ha tante possibilità per cominciare a mettere fiato sul collo a questo gioiese per eventuali scontri futuri al momento gioia non sembra avere rivali Villa e JBL sembrano quelle più accreditate a poter contrastare la gioiesi insieme appunto al Botteghelle qualora dovesse vincere il Villa San Giovanni che giochi in casa di diritto sarebbe la seconda in classifica quindi la sfidante numero uno la JBL ha sfiorato più volte la sconfitta in queste in queste settimane ma forse prendendo un po' sottogamba gli avversari in questo caso sicuramente non sarà così perché si sa che il Villa appunto è una formazione temibile quindi ci sarà da aspettarsi una vera e propria battaglia d'altro canto l'Olympic sfrutterà invece il turno agevole in casa contro il Castro Villari per avvicinarsi ancora di più alle zone alte altissime direi della classifica e la Botteghelle spera anche di continuare così in Serie D ci si aspetta un turno infrasettimanale di recupero tra l'Abba e il Cup in casa dei gialloverdi con Enrico e compagni che proveranno a mettere il fio da torcere ad una squadra al momento senza rivali il dato interessante che mormora nei meandri cestistici è sicuramente tante proteste contro l'operato arbitrale anche in caso di vittorie con un gap incredibile tante situazioni molto particolari la risposta che ci darebbe un arbitro è ma un giocatore non ha mai sbagliato un terzo tempo gli arbitri pure sbagliano noi siamo consapevoli è chiaro che servirebbe un po' di tranquillità verso e da parte tutti gli operatori del settore Gio a parte questo ci dicono che canestro più fallo di Fra Giacomo in Gbile Lamezia ma non aveva segnato io ho visto il video è stato veramente mi è capitato su Facebook di vedere il video postato dal sito della pagina della Gabriele Rettura Virtus Lamezia il quale c'è un contatto in questo caso si tratta appunto di Cilio regionale il canestro non viene realizzato l'arbitro fischia il fallo quindi due diri liberi da abbattere dopo il primo Billy Fall va recupera il rimbalzo tutti si fermano convinti al primo faccerno di proseguire si va dall'altro lato tra le meraviglie del dei giocatori e del pubblico solo che ci si aspettava che magari fosse stato dato canestro buono e il tiro libero aggiuntivo invece a referto non è stato segnato ovviamente il canestro perché non era entrato e gli arbitri non si sono resi conto quindi insomma una situazione abbastanza grottesca e per quanto riguarda gli arbitri secondo me è paragonare la risposta che dicevi tu ipotetica di un arbitro che dice ma un giocatore non ha mai sbagliato un terzo tempo direi che non non è da paragonarsi con la situazione arbitrale perché se il giocatore sbaglia un terzo tempo risponde la propria squadra l'allenatore fa delle scelte può essere sostituito può tornare in difesa e recuperare un arbitro qualora fa un errore condiziona un po' di più l'esito della gara in quanto grava di un fallo sottrae un canestro ma non c'è un rimedio non può essere sostituito e quindi giustamente le proteste dei giocatori sono tra virgolette comprensibili fin tanto che non superano il livello di educazione e il rispetto che si debba tenere sempre si deve tenere sempre con qualsiasi controparte appuntamenti al weekend sabato alle 20.30 cambio orario la partita della Redel che ospiterà i giovani di Ragusa chiaro morale a mille però insomma è una partita sempre da prendere con le molle anche perché i siciliani hanno vinto al Palascop di Soverato che campo facile assolutamente non è Ragusa come ripetiamo dall'inizio non dico che potrebbe battere chiunque ma può dare del filo da torcere a chiunque questo sì posso sottoscriverlo perché comunque si tratta di una formazione giovane anche fisicamente abbastanza ben messa e in un campo grande come questo del Botteghelle essere giovani freschi correre sicuramente è un'arma in più d'altro canto la Redel deve fare i conti con i tanti infortuni quindi un roster ridotto e la fatica di un turno infrasettimanale molto intenso non è detto che arrivi alla partita in condizioni fisiche ottimali proprio per giocare contro una formazione di ragazzini che hanno molta più facilità nel recuperare da una partita di qualche giorno prima la settimana prossima torneremo anche noi al Palacalafiore finalmente la box chiuderà i battenti ho visto qualche parlare male della box che se incontriamo un pugile già abbiamo parecchi nemici nel basket però con quelli possiamo trattare con i pugili meglio non scherzare rispetto per la box abbiamo la pallacanestro via appuntamento chiaramente alla settimana prossima tira la da tre sai che cosa c'è difendi passa e tira come big concetti e metriche